la glicemia post-prandiale non è altro che un dato numerico che indica quanto zucchero o glucosio c'è nel nostro sangue solitamente nelle due ore successive un pasto principale colazione pranzo cena che abbia appunto avuto al suo interno dei carboidrati il valore solitamente entro le due ore deve stare al di sotto dei 140 milligrammi su decilitro in questo caso le persone normali solitamente non arrivano mai a quei valori ed è un dato interessante da un punto di vista nutrizionale dimenticavo la glicemia dopo 3-5 ore torna a livelli basali paolo non dormire però grazie a tutti grazie a tutti